Buongiorno a tutti, intanto ben tornato perché mi pare che ti sei fatta male ad aprile, ti sei operato i primi giorni a maggio, quindi insomma era un po' di tempo che faticavi a Campovilla e finalmente sei tornato in campo. Oggi sono sei mesi e due giorni dall'operazione, è una gioia grande perché è stato un periodo veramente difficile che però ho affrontato con uno spirito giusto e con positività e oggi sono riuscito a tornare in campo, per me è veramente una soddisfazione. Sei entrato sul 2-3, hai sognato magari il ritorno con il gol del 3-3, sarebbe stata una ciliegina sulla torta. Purtroppo è andata male, però sì, entrare e fare gol sarebbe stato veramente al massimo, non è andata bene, vabbè, così. Hai avuto un buon movimento sulla sinistra con un bel cross al centro, poi anche una conclusione, diciamo che in questi casi qua quando non si gioca tanto tempo, i 10 minuti, il quarto d'ora è importantissimo per tornare anche a saporare i contrasti, insomma il calcio giocato in partita che è diverso dalle partitelle con i compagni. Sicuramente la partita ha altri ritmi, ha altre situazioni, io lavoro tutta la settimana per cercare di ritagliarmi anche questo quarto d'ora perché è importante, più uno gioca uno riesce a ritrovare il ritmo partita, quindi l'obiettivo è quello, sicuramente aumentare sempre a minutaggio. Tu sei un centroavanti di quelli che mette del metto, fa la guerra con tutti, gol, insomma l'hai sempre fatti, 8-10 a stagione, uno che ha caratteristiche diverse da arma, potresti giocare anche insieme, il mister Collega non ci sente, per cui... No, beh, sicuramente caratteristiche diverse da Rashid e potremmo giocare anche insieme per come la vedo io, sì, sicuramente. Tu sei anche molto bravo ad attaccare la profondità che in questa rosa, in questa squadra, non c'è nessuno che ha questa caratteristica. Sì, per Rashid ha altre caratteristiche, è molto bravo tecnicamente a tenere la palla in aria, io magari sono un giocatore un po' più di movimento, mi piace anche andare lungo, non solo incontro, quindi sì, in quello ci completiamo, diciamo. Una partita che tu hai visto per larga parte dalla panchina è stata proprio una giornata taccia, perché sicuramente sono stati commessi degli errori, ma insomma sono quelle partite in cui poi non teneva dritta nemmeno una. Sì, soprattutto il gol annullato, io ero proprio in linea e secondo me non era fuori gioco, poi il direttore ha detto che c'è stato un tocco di Pasini, io quello non l'ho visto, secondo me era regolare, lì un po' è cambiata la partita e poi c'è stato il loro 1-2 che ci ha un po' messo in ginocchio, ripartiamo da martedì subito. Poi insomma, sei giocatore di carattere, di grinta, è bello che questa squadra abbia queste caratteristiche e che il pubblico glielo riconosca, perché quando perde i 4-2 esci tra gli applausi di tutto lo stadio, insomma vuol dire che perlomeno questa simbiosi con la gente di Vicenza è fondamentale. Sì, come dici tu si è creata una bella simbiosi, anche oggi ci hanno applaudito nonostante un risultato abbastanza pesante, quindi speriamo veramente a Terni già di regalare e una soddisfazione perché ci stanno dando una mano, anche nei momenti difficili come oggi. Terni è una partita sulla carta difficile, forse è la miglior partita che poteva capitarvi. Sì, se tu vuoi puntare a stare là, ci sono anche le partite come Terni in cui devi cercare di fare risultato, altrimenti fai un altro campionato. Però voi ci credete di stare là in cima? L'obiettivo è quello di stare là, poi vediamo quando arriviamo verso la fine, però l'obiettivo è stare attaccate alle prime tre. Perché poi insomma non si sa mai, poi in caso mai se si devono fare i playoff meglio farli da secondi o terzi, perché già è un campionato nel campionato, insomma qualche partita la si risparmia. Quello sicuramente, vediamo come andrà il campionato, arrivare più in alto possibile è l'obiettivo numero uno. Grazie. Grazie. Grazie.